Siamo con Anna Pulitano, mi hanno detto che papà è il presidente dell'Attica un po' basso, però tu pratichi palla a volo, è vero? E perché hai scelto il palla a volo? Ho scelto palla a volo perché è uno sport di squadra e mi piacciono molto i sport di squadra, quindi ho scoperto la palla a volo e quindi ho scelto di fare il palla a volo. Però hai provato anche a giocare a tennis? Sì, ho provato a giocare a tennis, sì mi piace un poco, però mi piace di più la palla a volo. Che cosa fai il pomeriggio in palestra? In palestra gioco, faccio giochi di squadra, corriamo, ci divertiamo. Siamo con Ludovica e Simone. Ludovica, mi racconti cosa fai il pomeriggio all'Attica un po' basso quando vieni per fare l'allenamento? Allora alle due e mezza veniamo per fare allenamento e facciamo prima un riscaldamento, poi facciamo vari esercizi col cesto, poi proviamo battute, facciamo dei punti e insomma ci alleniamo. Cosa ti piace del tennis? Mi piace tutto perché stiamo insieme, facciamo tennis, mi piace tutto. Simone, tu invece perché hai scelto proprio il tennis? Veramente non è che l'ho scelto, ero piccolo, mio padre mi ha fatto provare e mi sono subito appassionato a questo sport. E che cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto soprattutto perché negli altri sport di squadra se vinci la soddisfazione è di tutti, qui se vinci la soddisfazione è solo tua, quindi hai un maggiore carico e ti senti più fiero di te. Però gli allenamenti sono comunque intensi, visto che comunque devi contare solo sulle tue forze a tennis. Sì, infatti sono molto intensi, però meglio così almeno ci alleniamo.